Il Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, ha ricevuto nella Sala del Cavaliere di Montecitorio il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Togo, El Adi Abbas Bonfo. Al centro del colloquio, i rapporti politici ed economici, gli scambi commerciali e gli accordi bilaterali tra i due Paesi. Nel corso della sua visita a Roma, il Presidente togolese ha partecipato a numerosi incontri con esponenti istituzionali italiani. Il Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini,